Ciao ragazzi, ora mostreremo le caratteristiche di elmo a peluche. E' molto bello, ve lo faccio vedere anche... guardate che roba! Se lo volete comprare anche voi si trova su Teddy. E' un negozio dove c'è la scritta Teddy fuori, lo potete riconoscere, sta nella via Avezzano. Intanto parliamo di elmo. Guardate, allora si muove molto bene perché è tipo sdangolo, sdangolo, guardate per i piedi si muovono. Ehm, guarda, la bocca la... guarda, la possiamo chiudere. Si chiude e si apre. Il naso non fa niente, il rumore non lo fa. Comunque possiamo anche chiudere il video. Al prossimo episodio